Allora ragazzi, io ancora non ci credo ma dopo anni sono riuscito a recuperare l'account OG che mi avevano rubato, ora vi spiego tutto Tutti voi mi conoscete con quest'account incredibile con cui ho iniziato YouTube e ho tutto ragazzi, tutto il capitolo 1 completo, tutte le cose OG, tutti i pacchetti di Twitch, i pacchetti dell'invidia, roba che non hanno più rimesso L'Iconic, la Wonder, Travis Scott, il bandito, e questo non è niente ragazzi, guardate questo non è niente Più di 400 skin ragazzi, guardate che roba assurda, che roba incredibile, guardate Con anche il mint e tra l'altro è stato valutato dal più esperto italiano di account con un voto altissimo, guardate che roba che ho Ma non è il mio primissimo account, questo non è l'account più G che ho, è incredibile sta cosa Cavaliere nero, non è la cosa più G che ho Allora signor Mario, io ti spiego un po' la situazione, tu sei qui perché sai che devi valutare un account, ma qual account? Il mio primissimo account di Fortnite, capitolo 1, stagione 1, rubato direttamente nella stagione 1 di Fortnite anche se non si può definire stagione Perché non c'era l'identificazione a due fattori? Non c'era neanche rimasto male perché alla fine non pensavo che fortemente le skin sarebbero, vabbè, capito, esplose di valore Però siamo qui con tante chicche Come puoi vedere fra l'hanno usato, l'ho recuperato tramite mail e vediamo le skin che hanno comprato Io non so nulla, hanno continuato a giocare questa season, è incredibile sta cosa Secondo me l'hanno avuto più persone, non solo una, capito, più persone a parer mio Non ho visto nulla, eh, ti giuro, però c'è una chicca C'è una chicca, spero di sì, spero di sì, a sto punto mortacci loro, ma l'hanno rubato per anni E almeno, capito, voglio il compenso Quindi da cosa partiamo? Vogliamo partire, cosa vuoi vedere? Vuoi vedere la carriera come al solito? Sì, vediamo la carriera 1784, vabbè, sicuramente sarà peggio del mio account Immagino sia peggio del mio account Ma giocano pure competitive i mortacci loro Vabbè, livello account 1784 Sono pure diamanti 3, sono delle pippe C'è sta, c'è sta, ha il pass di questa stagione In questi giorni sto giocando tipo 19 in creative da 70 che avevo con il 4G Cioè questa app è miracolosa, raga, è gratis i primi giorni Provatela, link in descrizione, cliccate in boost e vi abbassa il ping No, 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 non è bloccato No, non ce l'ha, non sai comportacci Di chi è? Poi posso vedere le amicizie, eh? Ah, ma è italiano Alcune sì Ma è italiano, non alcune sì, ma poi è italiano No, è italiano, è italiano È italiano, zio Che tra l'altro mi avevano rubato anche le mail, capito? Giustamente collegate all'account È la cosa più incredibile che io l'account l'ho recuperato a caso Perché l'altro giorno stavo sistemando le mie mail Cioè è proprio uscita l'opzione dei vari account collegati Cioè è presente le mail di recupero, eccetera Proviamo Poi mi sono ricordato dei forti È incredibile questa cosa, assurda Allora, vogliamo partire Cosa vuoi vedere? No, ti ho spoilerato già una cosa Non hai visto Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Ok, mi chiedo io Partiamo dai picconi Dai, partiamo dai picconi Decido io Partiamo, andiamo per... Per stagione Ok, già c'è per stagione Partiamo da quelle ultime Vediamo un po' Dimmi se c'è qualcosa di interessante Qualcosa che ti può piacere Qualcosa che ne so Che c'è? Più o meno qua vedi i picconi delle ultime stagioni Quindi... Vabbè, sì Non sono tanti Quanti sono? 140 La faccia Sono tanti invece Ma che è successo? C'è il long, dai Va bene E vediamoli un po' Vediamo, c'è questa Lascia del Leviatano Non so se... Del Leviatano, bella Ebbè, è carina Cioè, è carina Vediamo, vediamo, vediamo Poi c'è un po' di roba, ragazzi Fatemi sapere nei commenti Se vi piace Cosa c'è, cosa non c'è Non rubate gli account Non compratevi Perché la maggior parte Sono rubati i mortacci loro Detto ciò Che non c'è il minti Non c'è il minti Hai visto? Non c'è il minti Non sembrerebbe esserci il minti Ah, c'è Bato a studiarle Che è il... Vabbè, c'è sta la bacchetta stella Ci sono i piccoli da tryharder Questo è da tryharder Visioni Va bene Oh, ma questi Hanno giocato fino alla stagione 5 in realtà Andiamo un po'? Per curiosità No, 7 Hanno giocato In che stagione l'hai perso? In che stagione l'hai perso? Ti ricordi? Stagione 1, capitolo 1 Poi mi sono fatto praticamente Che poi non era una stagione Mi sono fatto direttamente l'account Subito dopo La mente Poi hai visto quello mio L'hai valutato Con il cavaliere nero e tutto Semila skin Sì, sì Ma c'è la memoria del pesce rosso Vado Vabbè Niente Ma perché se si riordina Ma questa è della stagione 1 Neanche ricordavo, fra Questa è della stagione 1 Ti giuro Ma forse è riuscita più Nello show Ma no, ma perché lo slurp Mi ricorda, capito? La città con lo slurp Quindi mi viene in mente dopo Vabbè, vabbè, fra Niente di che Cioè, il pass Poi se sono comprato Vabbè, giustamente Questo è della stagione 2 Del pass Battaglia Niente di che Partiamo che niente di che Deltaplani Ok Deltaplani Qua abbiamo Vabbè Se sono saltate alcune stagioni Comunque Se tu vedi Passiamo da tipo La 2 alla Quanto sono i dati? Capitolo Cosa? Quanti sono? Quanto sono i dati? 131 Secondo me sono passate Alcune stagioni sono state saltate Magari nessuno se lo comprava E' stato rirubbato Che ne stai se è stato rirubbato? Boh Ma tu sai la cosa incredibile? La cosa incredibile è che Non hanno cambiato email La cosa incredibile Ma si può cambiare email? Non lo so, eh Se hai la gmail, sì No, no Si può cambiare email con Fortnite Te dico L'account collegato creato Non lo so sta cosa Non lo so Sì e no Dipende C'è quando te la cambia Non c'è quando no Un po' susto Vabbè In poche parole Mancano alcune stagioni Cioè alcuni capitoli Stagioni del capitolo 4 Eccetera Però tipo il capitolo 1 e 2 Tutto giocato quasi, eh Incredibile Comunque dobbiamo scendere Ah Vedi Pure Mello Riders Era comprato il bro Comunque scendiamo Scendiamo Mario Sei pronta alla chicca? Che c'è di raro? Che c'è qua di raro? C'è roba OG Un po' di roba OG Niente Non c'è niente di particolare No? Non c'è niente di particolare Scendiamo Non scendiamo Eh quello là è raro quello Quale? Oppure il mago Eh Cioè quello Quale? Fra questo è raro il mago Che poi era gratis Ricordi che era gratis? Era un mini pass battaglia Tra virgolette Fra il mago È bella Cioè guardate che Fammi vedere il mago Ancora Allora Se proprio ti devo dire la verità Dimmi Il mago è raro Eh Ok Ma fino a Mi sembra L'anno scorso Non aveva valore E ora ha valore Sì Ma non più di tanto Vabbè Ho sempre saputo che il mago È il mago Sì Però non ha Non è tutto questo grande valore Ha più valore Ad esempio quello là Quale? E' Quello di tappano rosso Con gli spuntoni Serio? Ruggine? Non vedo Ruggine si chiama questo Ma sei sicuro? No non è questo Ma è il massimo esperto De che? De casa tua? Ma non lo vedo Io vedi Bene dalla cosa Metti quello accanto al mago Quello bianco Fammi vedere quello? No accanto al mago Giù Questo No l'altro Questo Tormenta Tormenta C'è l'ho fatto pure io probabilmente No allora Allora no 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 Allora Mario Fa schifo comunque Bravo ok Per adesso che c'è del raro Er mago Cioè Allora Un po' di skin Er mago Eh sì Sto vedendo che c'è un bello scudo Vabbè il cavaliere nero C'è l'ha fra Ma ha fatto tutte le stagioni Capito? Quindi andiamo per skin Ora chiudi gli occhi Maledetto Chiudi gli occhi Ok Vediamo un po' le skin Sono 196 Contro le mie 146 Non sono tante Sincero Non sono tante Vabbè però Vabbè però No allora Se ti do dire la tutta Avendo un cavaliere nero E 196 skin Ci sta Ah fra Allora il mio Vabbè il mio fra Ha preso un voto altissimo Perché ho cavaliere nero E conic wonder Mintier Peggio Cosa C'è 500 skin No stai zitto Vedete il video Non spoilerate Vale tantissimo Vedete il video Che cacchio Che c'è di bello Questo è Vai Però mi immaginavo Magari più skin Essendo passato Per più mani Secondo me Non lo so Poi poi magari Se ne ho provato solo uno L'ha usato solo quello E poi torna a giocare Da punto 8 Non lo sappiamo questo C'è pure C'è la psycho Crystal C'è la psycho Hai visto Bandito psycho C'è la Carina Carina Ce l'ho pure io Naturalmente Niente che mi emoziona Perché già ce l'ho Tu devi valutare Facciamo così Tu sei l'esperto Non io A me non emoziona nulla Tranne una cosa Che poi ti farò vedere Perché signori Io ho tutto Ho tutto Tranne quella cosa Perché non pensavo Potesse valere così C'è nel tempo Capito Mi facevo a fa culo Che ti esce Che ti fai un'idea Ad esempio C'è una skin Che è quella Di Halloween No Quale No tu non ce l'hai qua Forse Non lo so È la skin di Halloween Che è uscita Nel primo capitolo E vale tipo Un casino Non esce tipo Da 1500 giorni Tipo Una skin di Halloween Che è uscita Nel capitolo 1 Sì è la femmina È la femmina Femmina di che? È dirà la faccia Tipo di Halloween Mi sembra che Ma ce l'ho sicuro Nel mio account L'altra volta Ma non me l'hai fatto Ah capito Mi sa che ce l'ho io Nell'account Vediamo Vediamo Andiamo Ma scendiamo giù Scendiamo giù Per esempio Questa skin Non ce l'ho Vediamo Lo spuntone Non ce l'ha Ma non vale niente Immagino Comunque Non c'è Omega Non c'è Ah no eccolo qua Eccolo qua Vediamo un po' No no Aspetta Vediamo un po' Eeeh Non ha gli stili Non ha gli stili A merdone Ma rubi l'account E manco c'è giochi Che teri di mortacci Oh però c'ha Allora Non hai pacchetti di Twitch Non hai No aspetta Twitch forse Non hai pacchetti dell'Nvidia Non hai pacchetti No Pass 3 Cioè che poi sarebbe Pass 2 Perché il primo capitolo C'è la prima stagione Non c'aveva il pass Seri C'è il cavaliere nero Però se ha il cavaliere nero Giustamente ha tutte le skin Fra Pronto Oddio Vado piano Vado piano Vado piano Vabbè fra Questa tutte cose Questa La reneged No purtroppo no Non ho preso la reneged Ma qualcosa di molto raro Che potrebbe farti Drizzare il pisellino Capito Ok Oddio Che cos'è Che vedi Che c'è Allora La rei con Lo school Lo school E tu dici Vabbè lo school Potrebbe averlo comprato dopo No Sei pronto Sì Olè Lo school viola Cazzo Lo school viola E questo l'hai comprato tu allora E questo sì che ho comprato io E appunto non pensavo potesse essere così raro Perché non era così eh Quando l'ho comprato io era così Signor Diego Signor Diego Signor Diego Ma essendo che tu ora C'è tuo account Che ne diresti Che me lo dai a me questo account Perché ma che vuoi Non si vendono gli account Per lo school viola La cosa più rara è lo school viola La cosa più rara è lo school viola No? Naturalmente Ti piace? Sì Sì è bello E c'è pure quel tipo là strano Tutto sulla sinistra No E no La sinistra Eh No non lo conosco Ma manco io Da dove cazzo esce questo Mai visto in vita mia Puoi sapere che è raro e non lo sappiamo Vabbè Ok c'è sta c'è sta Magari è uscita dopo Perché io mi chiamo Ricordo Giù Nell'ultima fila Il terzo questo Chi cazzo è Mai visto pure questo in vita mia C'è assomiglia Quello di salve il mondo Ma non lo è Aspetta un attimo Io non ce l'avevo eh Io questo non ce l'avevo Sono sicuro Me lo sarei ricordato E questo quando mi hanno rubato L'hanno rubato Tutto nella stagione 1 Direttamente Ma comunque ci sono queste due skin Che io non conosco Quindi possono essere Una miniera d'oro Come possono far schifo Ma comunque Mario Tu c'hai l'enfasi Del gatto morto Cioè Ti faccio dello school viola Tutto avrebbe il risultato Mario Vigo Ve lo regali Ma perché Ma perché io School viola le vedo Tipo C'è ragione C'è ragione Però lo school viola Allora Sincero Vale più il mio account A questo Il mio Non è che lo school Allora No Il tuo account Vale di più Perché amalgama Più skin Questo invece Ha solo lo school Di raro alla fine C'ho solo lo school Il cavaliere nero Vabbè che ho vinto Però school è school Si trovano molto molto spesso I school Sì assieme ai cavaliere nesi È più rara La renegade Sicuro Ma è più rara la ghoul Sì Ma è più raro anche il tuo account Rispetto a uno school viola Ad esempio Vabbè grazie Vabbè si fra Ma perché Vabbè abbiamo capito Dunque esperto Ma c'è il pisello piccolo Ragazzi Perché 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 ce l'hai piccolo Allora lasciate like Per vedere un altro video del genere Mario Will Io con questa account Che ci faccio Lo userò per usare lo school viola E basta Ma lo chiamerò Diego con la faccina Come mi chiamo su youtube Che ho cambiato nome Ho tolto abusivo Lo spiego anche qua Per vi trarre la parte finale del video Perché la mia idea È che abusivo come nome Attualmente che youtube È fatta per bambini di due anni Potrebbe dare fastidio E quindi potrebbe non spammare i video Quindi ho tolto abusivo Non ci ho messo la faccina Sta Mario Will come ragionamento No? Ci sta a senso Certo certo Onesto Certo 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 Certo